Presentata oggi in conferenza stampa a Catania, la prima operazione di pulizia della città da parte dei cittadini considerati veri protagonisti dell'operazione. Il primo test, Puliamo Catania, prenderà il via alle 8 di domani mattina e si concluderà a mezzogiorno. Durante questo arco temporale, i cittadini potranno insieme ai dipendenti dell'Ufficio Ecologia del Comune e con le aziende private che gestiscono la raccolta dei rifiuti, ossia OICOS e IPI, contribuire alla pulizia della città. Il messaggio che vogliamo lanciare con questa iniziativa è quella che tutti quanti noi possiamo fare qualcosa per rendere più pulita la nostra città e considerare la nostra città, cioè le vie, le piazze, le strade, la nostra città come se fosse casa nostra. Questo è il messaggio che vogliamo dare ai cittadini catanesi. Certo, noi dell'amministrazione comunale faremo di tutto per renderla più pulita la nostra città, ma credo che un grado di, come dire, di intervento debba necessariamente essere fatto anche dai cittadini stessi. E' questo il lancio che vogliamo fare, qui invitiamo tutti i cittadini di qualsiasi età, armati di scopa e di paletta, l'amministrazione darà anche a coloro i quali ne sono sprovvisti dei guanti, qualcosa di altro per rendere operativa questa iniziativa. Per questo primo test di Puliamo Catania sono stati individuati sette punti di concentramento, uno per municipalità e un altro per San Giovanni Galermo, dove i cittadini potranno riunirsi, depositare i sacchetti di quello che hanno raccolto per strada e chiedere informazioni sull'operazione di pulizia. La faremo in sette piazze di tutto il comprensorio cittadino catanese, una per ogni municipalità e in più la piazza chiesa madre di San Giovanni Galermo, per cui intendiamo quel quartiere come un quartiere che ha una sua autonomia e invitiamo tutti, si svolgerà dalle 8 alle 12 e dovrebbe essere anche un intervento gioioso della città perché tutti quanti dobbiamo essere contenti di rendere più vivibile la nostra città, più pulita e più accogliente. Questo è il messaggio che intendiamo fare ed è l'inizio dell'attività per quanto riguarda la pulizia della città da parte dell'amministrazione comunale, la quale nelle prossime settimane valuterà anche degli interventi mirati per porsi come obiettivo un significativo aumento soprattutto della raccolta differenziata.